ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video analisi sui futuri campioni sul nostro canale youtube prima di iniziare con l'analisi odierna volevo ricordarvi di lasciare in piaccia il video di iscrivervi al canale e se vi siete persi i scorsi episodi di questa serie vi ricordo che li potete trovare nella playlist che appunto si chiama video analisi sui futuri campioni presente nel nostro canale altra cosa importante visto che oramai è finito il campionato di serie a e quindi di conseguenza è finito anche il pagellone da 0 a 10 per ogni giornata di serie a i video analisi sui futuri campioni usciranno con maggior frequenza quindi vi ricordo che se non volete perdervi episodi di questa serie di attivare la campanellina così ogni talvolta uscirà un video sul nostro canale vi arriverà una notifica e vi ricorderà di guardare sempre se volete il video che è appena uscito oggi parliamo di benedetto barba benedetto barba è un classe 2003 nel momento in cui stiamo registrando il video ha 19 anni gioca come già accennato prima nella scuola di club del napoli è nato e possiede nazionalità appunto di conseguenza italiana come piede principale utilizza il piede destro ed è stato anche uno degli ultimi è stato anche uno dei convocati della nazionale italiana under 15 che in questo momento ovviamente non quest'anno vista l'età che in questo momento rappresentano anche l'unica convocazione con una maia della nazionale azzurra sicuramente visto il processo che negli ultimi giorni e nell'ultimo periodo la sia la nazionale maggiore sia la nazionale under 21 su tutte sta facendo c'è quello di un ingiovanimento prendendo anche talvolta giocatori sotto leva e sotto età per giocatori che hanno trovato tanta continuità che si sono comportati bene anche nel campionato di primavera uno può essere un'occasione per rientrare nei convocati di una nazionale di categoria superiore benedetto barba rientra tra questi giocatori quindi sperando ovviamente per lui che ci sia questa possibilità di mettersi nuovamente in mostra con la maia della nazionale del nostro paese il ruolo principale che ha ricoperto per quasi tutta la stagione quello di difensore centrale ma in caso di emergenza può fare anche il ruolo di terzino destro ed esterno destro quindi è un giocatore molto molto duttile questo poi come andremo a vedere l'ha messo ancora più nelle gerarchie dei titolari perché ha fatto quasi tutte le partite ma sicuramente mette anche in mostra alcune sue qualità che magari dopo andremo ad elencare le statistiche visto che ormai è terminato il campionato sia regolare sia con i playoff e playout di primavera uno playout in cui peraltro il napoli è stato anche impegnato con cui in cui poi è riuscito ad ottenere la salvezza e quindi sicuramente un obiettivo importante per una squadra che si è messa in mostra che ha lanciato anche parecchi giovani interessanti in primavera uno ha realizzato 34 partite mettendo sul tabellino un assist e prendendo 8 cartellini gialli e un cartellino rosso derivato da una doppia munizione in coppitalia primavera invece ha fatto una sola partita senza fare assist e senza prendere cartellini gialli conseguentemente anche senza prendere cartellini rossi come somiglianza abbiamo deciso di metterlo a confronto con uno dei giocatori sicuramente più duttili del napoli prima squadra vi ricordo che quest'anno in tutti gli episodi abbiamo sempre deciso di mettere a paragone un giocatore della squadra giovanile dell'under 19 con un giocatore della prima squadra e in questo caso il paragone ci sembrava più che azzeccato perché giovani di lorenzo e benedetto barba sono entrambi giocatori molto duttili ovviamente il ruolo principale non è lo stesso perché giovanni di lorenzo principalmente gioca come terzino destro ma ha dimostrato di saper fare anche abbastanza bene il difensore centrale in una difesa 4 visto soprattutto l'anno scorso e anche in alcune occasioni quest'anno magari a partita già iniziata in cui sono mancati alcuni difensori ma in caso di necessità visto comunque la buona qualità che possiede ha fatto anche l'esterno destro con anche buoni risultati visto che comunque il suo piede è capace di mettere palloni interessanti a servizio dei propri compagni nel caso di benedetto barba è un giocatore che fa principalmente il difensore centrale però può fare il terzino destro una difesa 4 l'esterno destro una difesa a 3 con un centrocampo appunto a 5 a 4 quindi sicuramente può essere un giocatore molto simile comunque possiede soprattutto il piede forte c'è il piede destro una buona qualità è capace anche lui anche quando gioca difensore centrale di mettere buoni palloni per i compagni anche un buon tiro quindi sicuramente questa è una grande dote per lui nella sua carriera ha vestito tre maglie è nato e ha fatto i propri primi anni di calcio nella società dilettantistica del jean jacques rousseau dove poi decise di lasciare questa società per passare all'inter casertana il grande salto lo fece quando il napoli decise di creare pienamente le categorie dei pulcini e desordienti e benedetto barba decise di fare questi provini dove venne preso dove iniziò poi questa carriera che ancora sicuramente appena iniziata è sicuramente ancora molto breve ma che comunque l'ha portato già a dei buoni traguardi quindi passò dall'inter casertana napoli dove poi praticamente è cresciuto dove ha fatto poi sicuramente il passaggio lo step mentale che poi ti porta a diventare un giocatore comunque di un campionato importante come il campionato di primavera 1 che rappresenta l'ultima fase prima del diventare professionisti nel mondo del calcio quindi sicuramente per fare questo passo devi avere la mentalità giusta e sicuramente benedetto in questo caso l'ha sempre dimostrata e sicuramente i frutti si stanno vedendo anche sulle e nelle prestazioni sul campo come pregio principale abbiamo deciso di metterlo come quello del di mettere quello del posizionamento difensivo questo perché un po come di lorenzo come detto come detto sono entrambi giocatori intelligenti che capiscono già prima della situazione magari quando la palla è ancora nei piedi degli avversari capiscono prima di tutti dove la palla potrà andare a finire come poi andrete a vedere dalla clip e questo sicuramente può anche coprire alcune lacune che alcuni giocatori hanno e sicuramente questa è una delle qualità che puoi migliorare meno giocando perché devi averla tu nella tua testa devi essere devi essere tra virgolette già nato così per capire per avere questa intelligenza tattica e sicuramente benedetto barba rappresenta uno di questi giocatori con questa mentalità e con questa intelligenza più che ha messo più in mostra nel nostro campionato di categoria giovanile giovanile ora vi lascio alla clip che va a mettere in luce a questo pregio della gara cross in area intanto con il pallone tagliato che attraversa tutta l'area di rigore poi ci prova garbet dalla distanza c'è un salvataggio sulla linea provvidenziale di barbacalaia due passi dalla porta rivediamo il tentativo di garbet che ha preso bene la mira e aveva preso anche lo specchio barba fondamentale sia disteso ora che avete visto la clip andava a mettere risalto il pregio che abbiamo deciso di mettere in luce del giovane calciatore andiamo a parlare del difetto principale che abbiamo trovato in lui che è quello del piede debole infatti in alcune occasioni preferisce giocare col destro magari in alcuni frangenti in cui utilizzare il piede sinistro è più facile e questo poi può metterlo a pericolo perdendo magari dei palloni pericolosi soprattutto per la zona di campo che ricopre e se molto probabilmente un difensore centrale perde palla 90 volte su 100 la squadra prende gol detto questo io spero che il video vi sia piaciuto noi ovviamente come sempre auguriamo una carriera importante e che renda il giovane calciatore più felice possibile noi ci rivediamo con un prossimo video qua sul canale ciao a tutti